C'era una volta Ryanair all'aeroporto di Rimini. Una bella storia d'amore finita nel lontano 23 settembre 2012 con non pochi strascichi legali. Ora era Adria, la vecchia società di gestione dello scalo riminese, alla meglio sulla compagnia irrandese. Questa infatti ha accettato di pagare 650 mila euro. Un accordo tra le parti che ha evitato un lodo arbitrale alla Corte Internazionale di Londra. Una decisione giunta pochi mesi fa. La controversia tra Aera Adria, fallita nel 2013, e Ryanair riguardava l'ultimo periodo di operatività della compagnia su Rimini. Questa, nei tempi che furono, garantiva circa 130 mila passeggeri l'anno. Dopo l'addio, Ryanair chiese ad Aera Adria ben 2,2 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dai legali della vecchia compagnia di gestione dell'aeroporto di Rimini che anzi chiedeva dal canto suo 1,7 milioni per i mancati pagamenti relativi ai transiti. Sostanzialmente, secondo l'ex gestore del Fellini e del suo curatore, la compagnia irlandese aveva fatto le valigie se n'era andata senza pagare il conto. Durante il braccio di ferro, Ryanair ridusse la propria pretesa a 500 mila euro per poi divinire 100 mila e infine zero. Aera Adria ha vinto inoltre un'altra causa, quella in sede civile con lo Stato, sentenza passata ingiudicato. Questa gli ha permesso di ottenere un risarcimento di un milione di euro dal Ministero dei Trasporti per diritti aeroportuali pagati in eccesso da Aera Adria fino al 2010. Questa somma, assieme ai 650 mila euro di Ryanair, andranno ai debitori privilegiati e chirografari.